Intanto un giudizio sul referendum. Sul referendum credo che la saggezza dei cittadini italiani vada ascoltata dalla politica. Quella politica che, sbagliando, ha immaginato di strumentalizzare vicende di giustizia complicate semplicemente a fini politici. Questioni così complesse devono essere oggetto di riforme da farsi in Parlamento. E il Parlamento deve essere all'altezza di questo obiettivo. Questo è il messaggio che viene dai cittadini. Noi lo vogliamo cogliere. Ci metteremo d'impegno perché queste riforme si facciano in Parlamento. È un'occasione irripetibile quella di questa maggioranza, di questo governo. Alcune cose già si sono fatte. Continueremo e cercheremo di arrivare a quei risultati importanti. Il risultato delle amministrative, il nostro giudizio, è positivo, è decisamente positivo. Noi venivamo da 26 capologhi di provincia, di cui la volta scorsa ne avevamo vinti solamente 6 su 26. Quindi posso dire che giocavamo in trasferta questa volta. Già al primo turno tre vittorie importanti. Il sindaco Melucci riconfermato a Taranto, il sindaco Giordani riconfermato a Padova e un nuovo sindaco del centro-sinistra a Lodi, strappata la Lega. Un grande in bocca al lupo a Andrea Furegato per il suo lavoro importante, straordinario. Sarà veramente all'altezza di tutte le aspettative che i cittadini di Lodi hanno riposto in lui. Un ragazzo di 25 anni, un giovane di 25 anni. Veramente un grande e bel segnale. Ma il nostro giudizio positivo su questo voto di domenica, sono sicuro, sarà ancora più positivo col ballottaggio. Perché al ballottaggio vanno tanti candidati di centro-sinistra, tante candidate di centro-sinistra con aspettative molto forti. Quello che già oggi emerge, chiaramente, è che il centro-sinistra vince quando è unito, quando lavora in modo il più unitario possibile, quando mette in campo candidature credibili, come abbiamo fatto, e poi esce fuori il dato forse per noi più importante in questo momento, il Partito Democratico è il primo partito d'Italia. Da sud, dal nord, dovunque, nelle città più grandi, nelle città più piccole, attorno a noi abbiamo intenzione di costruire con impegno coalizioni che non siano coalizioni approssimative o aggiustate all'ultimo momento, ma le vogliamo costruire sulla base dei programmi, delle cose da fare in modo molto concreto, come i cittadini ci chiedono di fare. Se non lo facciamo, vincerà la destra. Da questo voto emerge molto chiaramente che l'unico argine a evitare le vittorie di destra e delle destre nel nostro Paese è un centro-sinistra, un campo progressista attorno al Partito Democratico. Noi abbiamo intenzione di assumerci la responsabilità di costruire questa alternativa progressista, democratica ed europeista, perché se non è attorno a noi non esisterà e credo che questo impegno che i cittadini di questa elezione amministrativa hanno confermato dopo il voto dell'amministrativa dell'anno scorso sia l'impegno principale che abbiamo davanti a noi e che porteremo avanti nei prossimi mesi. Grazie. Grazie.